Siete partiti forti in avvio di gara, poi la partita si è un po' chiusa. Siamo partiti bene, dobbiamo dare più continuità alle azioni d'attacco e fare gol. Cos'è che è mancato? Oltre ad essere piccoli sottoporta, secondo me anche un po' di fortuna. Ora ci sono due partite, altre due gare importanti, c'è la Lazio e la sfida in casa. Dobbiamo essere tutti pronti, tutti, perché si gioca ogni tre giorni, quindi chi entra ci deve dare una grossa mano. Il mister cosa ti chiedeva per questa gara, quando ti ha chiesto in particolare modo per la sfida? Beh, di dare continuità al risultato di Torino e soprattutto alla prestazione. Come ho detto, dobbiamo essere più cattivi sottoporta, in primis anch'io, come è l'ultima occasione che ho avuto. Adesso tocca avvenire la Lazio, poi vedremo. Lo hai detto te, oggi ti abbiamo visto anche più in arico e hai avuto anche diverse occasioni in un altro partito di una più rigara dal limite dell'area. Sì, come ho detto, lì devo mettere un po' più di precisione che di forza, quindi cercherò di migliorare perché lo sto già facendo in allenamento. Grazie. 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 Grazie.